Musica Sul caso Delfico è stato chiesto anche l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché venga ripristinata una situazione di legalità e venga garantito il diritto allo studio, alla sicurezza e al lavoro per tutti. A interpellare il Capo dello Stato la comunità scolastica del convitto Melchiorre Delfico e dell'Istituto di Istruzione Superiore Delfico Montauti dopo che l'edificio scolastico Teramano, che accoglieva 1300 studenti, è stato posto sotto sequestro e chiuso dalla magistratura il 3 ottobre scorso perché ritenuto pericolante, in contrasto con le precedenti perizie tecniche che ne avevano garantito l'idoneità. Una situazione estremamente grave e preoccupante, scrive il personale del Delfico, perché ad oggi non è stata prospettata dagli enti competenti alcuna soluzione concreta e praticabile. I disagi maggiori sono vissuti dagli studenti convittori, che sono temporaneamente alloggiati in un albergo del posto, ma il costo è garantito solo per il primo mese, quindi il tempo sta per scadere. Inoltre si legge nella nota che la mancanza di menze nelle strutture ospitanti o l'impossibilità di usufruirne se presenti rende difficoltosa la gestione quotidiana dei passi da parte dei genitori. E ancora, le lezioni pomeridiane per gli alunni dei licei scientifico, coreutico, musicale, classico ed europeo si svolgono in altre sedie in tempi ridotti, rendendo così impossibile conciliare gli impegni scolastici con altre attività sportive e musicali, nonché con terapie riabilitative e sanitarie. Una condizione di disagio alla quale si aggiungono problemi legati al trasporto pubblico locale e l'ulteriore preoccupazione va per gli studenti che hanno bisogni educativi speciali e che risentono del cambiamento dell'orario e delle modalità didattiche attuali. Un territorio, poi quello teramano, già profondamente ferito dagli effetti degli eventi sismici come il terremoto dell'Aquila del 2009 e quelli del Centro Italia del 2016-2017, scrive la Comunità Scolastica del Delfico. Questa situazione compromette gravemente il diritto allo studio e il diritto al lavoro del personale scolastico, dicono a Mattarella. L'unica soluzione, concludono, sarebbe una tempestiva riapertura dell'istituto con tutte le verifiche tecniche necessarie e una futura chiusura programmata per fare i necessari lavori di adeguamento con previsione di spazi scolastici alternativi.